Tastare il polso ai turisti, capire il loro grado di soddisfazione è l'idea lanciata l'anno scorso e riproposta quest'anno dal Movimento per una Diamante Migliore. Lo scopo di questo questionario ce lo spiega il portavoce del Movimento, Antonio Cauteruccio. Sì, come l'anno scorso la nostra analisi, si tratta di un'analisi complessiva che abbiamo fatto già l'anno scorso, sulla nostra offerta turistica si compone di tre parti. La prima parte è legata alla somministrazione di questionari qualitativi ai turisti che facciamo sul lungomare, che distribuiremo nelle strutture ricettive, legate soprattutto alla ricettività, al livello dei servizi pubblici erogati, quindi raccolta dei rifiuti, la depurazione, la gestione della viabilità nella nostra città. Ci saranno poi dei quesiti più specifici come la valutazione del programma di intrattenimento messo su dal Comune di Diamante per la stagione estiva. Ci saranno questionari e domande specifiche riguardo per esempio alla valorizzazione, alla fruibilità del Parco del Corvino, del Parco La Valva e dell'Anfiteatro dei Ruderi di Cirella. La seconda fase, il secondo step, sarà invece la valutazione di alcuni parametri quantitativi legati alle presenze turistiche. Quest'anno vogliamo arricchire la nostra analisi con un reportage videofotografico che toccherà tutti gli aspetti menzionati nel questionario ed analizzati attraverso i parametri quantitativi. Il questionario non ignora l'emergenza di questi giorni ed include domande specifiche sul tema dei rifiuti, tema per il quale il Movimento ha recentemente avanzato una specifica proposta. Il sistema Vede Lago è riferito ad un'azienda privata, appunto il centro ricicli Vede Lago, che si occupa di dare valore commerciale ai materiali riciclati ottenendo degli straordinari risultati per quanto riguarda soprattutto il recupero delle materie plastiche con l'utilizzo di queste ultime nei calcestruzzi e nelle sabbie sintetiche.